Ben trovate cari amiche, ben trovati cari amici ad un nuovo appuntamento di Rubino Immobiliare News, il podcast che la Rubino Immobiliare dedica al mercato immobiliare delle zone che ovviamente serve con le sue agenzie. Quest'oggi sono con il titolare Andrea Rubino, ben trovato. Ben trovati. Allora parliamo di un caso particolare, quello della nuda proprietà. Che cosa significa? Che si può vendere una casa continuando a utilizzarla e quindi si può appunto vendere semplicemente la proprietà senza andare via. È già capitato qualche caso? Bene, questa formula di vendita e di compravendita è molto usata in Nord Italia dove ogni anno ci sono molte operazioni di questo genere che come dicevi tu permette in questo caso al proprietario di casa di continuare a vivere la propria casa però cercando la liquidità appunto vendendo questa famosa nuda proprietà. È un vantaggio economico per chi vende la nuda proprietà ma è anche un vantaggio per chi conserva l'usufrutto sull'immobile perché continua a fare la sua vita tranquillamente, abitare la sua casa che è molto ovviamente abitato per tanti anni, abita nel suo quartiere quindi non lascia nessuna delle abitudini che ha vissuto finora però gli permette di monetizzare. Certo, per fare un esempio pratico magari per monetizzare una persona rimasta sola o comunque per monetizzare oppure appunto i genitori che vogliono aiutare i figli quindi ecco questa è una delle soluzioni perché permette di liquidare e continuare a vivere la propria casa fino a quando come si dice Gesù. Certo, quindi lo soffruttuario continua a mantenere i suoi diritti e continua ad avere la possibilità di vivere in quella casa? Lo soffruttuario continua a vivere la sua casa e chiaramente continua anche a pagare il condominio, pagare le tasse ed altro però diciamo che gli permette di liquidare. Quindi chiaramente il valore in questo caso all'unito proprietà è proporzionale o inversamente proporzionale l'età diciamo di chi vende la proprietà. Chiaramente più anziani sì e più vale in questo caso all'unito proprietà quindi liquidizza maggiore. Anche se le cronache negli anni ci hanno raccontato episodi tra i più strani tipo signore in lacco gli anni che hanno venduto a giovani che poi insomma non hanno sopravvissuto alle loro stesse... Beh le situazioni di vita sono diverse, è chiaro che sono imprevedibili, infatti alcune volte che alcuni clienti ci chiedono delle previsioni ed altro è chiaro che previsioni a breve termine si possono fare però a lungo termine ci vuole una sfera di cristallo. Però è anche vero che noi siamo una società che come dicono tutti sta invecchiando ma normalmente sta invecchiando bene. Questo vuol dire che se c'è la possibilità di vendere casa il venditore ha la possibilità come dicevi prima di avere della liquidità per potersi godere gli ultimi tempi, gli ultimi anni, quelli che siano, soprattutto laddove ormai è una società anziana e senza figli. Sì, chiaramente l'età, le aspettative di vita sono aumentate specialmente in Puglia perché in Puglia si vive bene e quindi le aspettative anche dei pugliesi sono aumentate sia per quanto riguarda il sesso maschile che il sesso femminile e quindi l'età della vita diciamo sì le aspettative sono elevate rispetto a 10-15 anni fa e quindi ci permette in questo caso a chi vende la nuda proprietà di godere la casa e quindi diciamo maggiormente. Questo è il vantaggio, ci sono molte, soprattutto molti single, molti anziani che rimangono su uno e l'altro che vogliono anche godersi la vita in questo caso quindi permettersi i viaggi che uno non si è mai permesso e quindi diciamo che fanno questo tipo. Soprattutto laddove non ci sono i regi magari. È chiaro anche questa è una situazione, è chiaro, oppure aiutano i figli quindi diciamo perché è un sistema per liquidizzare. È chiaro, anche in questo caso occorre affidarsi a professionisti che fanno la valutazione dell'immobile e dopo vanno a fare il calcolo di quello che è il valore della nuda proprietà e quello dell'usufrutto. Qui diciamo ci aiuta anche la discussione di legge per cui nel momento in cui noi valutiamo l'immobile e dopo di che diciamo proprio a livello proprio di indici precisi che rimangono allo Stato si calcola se vale l'ottanta per cento e settanta. È chiaro, ho detto, è tutto inversamente proporzionale all'età, in questo caso, del proprietario che diventa usufruttuare. chiaramente più è giovane e meno vale l'immobile proprietà, ma ecco la mente è un po' più giambiente. Però è una formula che piano piano si sta usando anche in queste regioni, in questa città. Grazie Andrea Rubino per questa chiacchierata e alla prossima.